E' stato un weekend all'insegna del vandalismo nel quartiere di Villa San Martino, che nella notte di sabato ha visto il consumarsi di un vero e proprio atto vandalico ai danni di tre cartelli stradali che sono stati distrutti e buttati a terra. Prontamente segnalato alle autorità il fatto da parte dell'assessora pesarese Mila della Dora ad aiutare gli inquirenti, anche le videocamere di sorveglianza presenti sul posto. A tutto ciò si aggiunge poi un'altra situazione, quella del parco nei pressi del campo da baseball di Pesaro, dove alcuni telespettatori ci hanno segnalato lo stato di una panchina ribaltata e di rifiuti gettati sul verde anziché nei cassonetti. Torna dunque agli oneri della cronaca il quartiere di Villa San Martino, dove già qualche mese fa si erano recate le telecamere di Rossini TV, per attenzionare un fenomeno di baby gang che si era verificato nei pressi della zona del mercato di quartiere. Che siano sempre gli stessi o un nuovo gruppo non è dato saperlo, resta però il danno fatto alla comunità e la richiesta di un pronto intervento da parte delle forze dell'ordine che possa porre fine al fenomeno anche a fronte di quanto accaduto proprio questo weekend. Diciamo che sabato purtroppo sono successi diversi eventi, io ho assistito e anche subito segnalato ai cartelli stradali di Velti fra via San Martino e via Guido d'Arezzo. Subito il centro operativo è intervenuto per ripristinare, per mettere in sicurezza quella zona perché i pali erano anche sul marciapiede e quindi pregiudicavano l'utilizzo. Sono atti che condanno con fermezza, atti di invandalismo che non possono passare inosservati. La polizia locale sta già facendo le indagini e sono convinta che riusciremo a rintracciare i responsabili perché sono danni a carico di tutta la collettività che non ci possiamo permettere e sono gesti che fanno veramente male a tutti.